Ciao ragazzi benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui con Skylanders Imaginators abbiamo saggio il miraggio a livello 21, ci ho cambiato qualcosina tipo l'equipaggiamento avete visto queste sono le ali di Airstrike e anche l'arma perché l'ho perfezionata ci ho messo questa qui che secondo me è scelto dell'aquila saggia, secondo me è qualcosa di spettacolare 60 di attacco, ma naturalmente prima di andare avanti con le missioni secondarie ci dedichiamo come al solito ai saluti e partiamo in successione con Lory Monster Fire 1930, Matteo Stroscio, Gabbo Maso, Papair Paparus, Dani Ilfavij, Joseph Fucchiatera, Italo Calcatelli, Marco Pio Mannuzzi, Matiped 2.509, Thunder 02, bro spero che questa nuova avventura vi stia a piacerlo, naturalmente come al solito il video come sempre per mettere un bel pollice su, un bel commento e un bel mi piace e andiamo avanti e vediamo cosa succede ci incontriamo di nuovo Skylander, forse ti ricordi di me, sono il tizio che hai aiutato in un altro gioco, voglio dire, in un altro momento della tua vita comunque ho deciso di mettermi a fare l'idraulico, perché? Bella domanda, non ne ho proprio idea, so solo che è un lavoro durissimo io e la mia squadra stavamo riparando un gabinetto in questo sotterraneo, quando, badavum, la conduttura dell'acqua si è rotta il sotterraneo si è allagato e i miei uomini sono rimasti intrappolati, puoi andare a salvarli? Dai, in nome dei vecchi tempi va bene, ok salva gli idraulici, vabbè vediamo un pochettino, cioè in pratica avete problemi rocca, allora voglio vedere bene come si comporta il nostro saggio, oh cavolo, saggio miraggio attenzione, vai vai di qua, vai di qua ok, attenzione, attenzione, perché è nuovo e quindi ancora devo imparare bene a pilotarlo bene vai così, vai così, vai così, ok questa è quella fischiosa, ok, bravo, bravissimo, ok sì, un momento, sei alla mia destra, ah, sei di là, aspetta, però ho bisogno di una chiave, eh, già l'ho vista uno e mezzo al mare sì, ragazzi, però non dovete parlare in continuazione, eh, se vi ho detto che vi aiuto, vi aiuto cioè, sono, eh, tutti voi avete visto, mi fate cadere ah, aspetta, là ce n'è già uno se vi aiuto, vi aiuto, se vi volevo ammazzare, vi avrei già ammazzato ok, ok, è sprofondato sotto te, allora è fantastico, ma non potevi, non potevi, non potevi, non farò mai più un idraulico ok, bravo, eh, ok, vai da questa parte, allora qua c'è qualcosa che non ho capito, perché, ok aspetta un attimo che qua non si capisce una mazza aspetta, ok, ok poi ci sono più, no, penso, vulnerabili tranquillamente, sì, ok salvato anche tu, hai visto? va bene, ok sono stato ritrovato, vabbè, vai quindi, credo che siano tubi puliti questi, eh, non è che stiamo dentro la cacchia, no, eh sì, eh, non siamo nella cacchia ok, là c'è la chiave, ritorniamo un'altra volta sì, c'hai rotto, me l'hai detto già sette volte, aspetta no, 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 ok, salta di qua attenzione da quest'altra parte, vai di qua attenzione, cerchiamo di non cadere che qua, uh, che erro allora, la chiave è questa qui, perfetto perfetto porca di quella paletta se vado veloce secondo me è meglio ok, la chiave l'ho becchiata anche l'altro che sembrava è il primo che abbiamo visto perché poi a te in particolare? ok sei libero, ragazzo sei libero vabbè, questi sono ah, aspetta, aspetta, oh, cavolo all'improvviso così, eh aspetta, aspetta aspetta, 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 aspetta ecco, vai, vieni qua, mi chiede un po' di fuscito se mi segui va bene vai in qua, vai in qua aspetta che dovrebbe lanciare anche qualcosa attenzione, attenzione vai così, vai attenzione, saggio, saggio vai, vai, lo tengo vicino, eh carica un po' di fuscito, vai è il vento che ti ammazza ah, ventiduesimo infatti mi ricordavo che eravamo arrivati al ventiduesimo vabbè con il nuovo airstrike ok, fantastico vai da quest'altra parte beh, diciamo che saggio lo vedo abbastanza potente ok, la strada è quella, eh qua che non riesce a saltare ok vai attenzione, attenzione schiavo ragazzi ok ci sono qua c'è questo è un mastardo bastardissimo aspetta, aspetta ok, 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 ok stai calmo, stai calmo, saggio sei libero, ragazzo sei libero ah, vai in pensione bravo se ne vai in pensione scompari così ok, siamo a 4 ne mancano 3 sì, lo so c'è la stessa voce di Finn se non sbaglio ok avanziamo da quest'altra parte oh, ciao però di sì ok passiamo da quest'altra parte di qua ok, la chiave sta là, eh ci becchiamo la chiave sembra tranquillo però qua, eh il che mi fa preoccupare ok però ne mancano due oh, attenzione avevo detto io che era troppo stano sta cosa ah, che ho fregato alla grande, ragazzi attenzione, attenzione questo è viva ancora questo è viva ancora che c'è una massa va bene quindi entriamo da quest'altra parte anche se anche se se non ricordo male avevamo beccato qualcosa tipo quel giro no, ok quella è un'altra strada eh Maglus, ci fai perdere tempo parlo in terza persona ok, vai la chiave ce l'abbiamo infilata entro ok, sei libero, no? forte ma va che fantasia, eh non avevamo dubbi che non avremmo beccato quello giro attenzione attenzione venite qua venite qua venite vicino non troppo vicino però non troppo vicino poco vicino poco vai ecco questa è la pallina quella là scusa bravo poi vi faccio saltare tutti in aria ok sto arrivando ragazzi quanti ne sono ecco bravi un po' di palline energetiche vai non ho capito se qua in acqua sto tranquillo ok si si aspetta aspetta questa ancora non è molto aspetta ce ne sta un'altra qua no ah ok quindi possiamo questo chiva ancora possiamo tranquillamente nuotare nell'acqua vai ok vai che splendore vai ragazzo sei libero vediamo un po' vai 7 su 7 è stato davvero fantastico certo il sotterraneo è ancora allagato ma almeno la mia squadra è salva non potevo lavarmi nelle mani e a proposito di mani ho qualcosa per te ma non preoccuparti non è veramente una mano ma spero ti sarà altrettanto utile fanne buon uso cioè oh bel portiere ok sempre comune che ci dai novità testa oh questa è bella cervellander è proprio bella questa sembra che da un po' la del ragno ok vediamo qua se ci girisce ancora qualche altra missione avrai la forza di sconfiggere i forfanti che minacciano questa particolare regione si beh allora dimostralo ma ci sono anche altri mondi posti identici a questo tranne che per un unico importantissimo particolare sono più impegnativi oh oh basta tranquillo non ti preoccupare ok ci optiamo per questa qui perché sono curioso di vedere qua dentro se riusciamo a beccare qualcosina ehi skylander sai che stanno facendo adesso i cattivi prova a indovinare beh questa volta hanno costruito dei muri per tenerci rinchiusi qui dentro non dirmi che l'avevi indovinato la buona notizia è che possiamo farli saltare in aria con i razzi ma dovremo essere cauti per evitare che il nostro piano giunga alle orecchie dei cattivi e dovremo guidare i robot montarazzi fino ai siti di laccio ovviamente perché solo loro sanno come fare è per questo che li chiamano montarazzi comunque buona fortuna ok grazie quindi distruggito i muri l'altra volta abbiamo distrutto le torri adesso distruggiamo i muri ok qui c'è un sito di lancio aspetta però ragazzi che facciamo attenzione questo è partito qua ma che state combinando aspetta vai 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 perfetto grandioso ragazzi punta il razzo punta il razzo vai uh che figata ok 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 qui è andata bene quindi la prima l'abbiamo fregata un po' di energia allora vediamo dove sta l'altro perché mi sembrava di averlo visto da qualche parte ma mi sa che non sta qua ok il primo muro l'abbiamo abbattuto alla grande avanzo da quest'altra parte attenzione vediamo se poi riusciamo a beccarne qualcun altro ragazzi seguitemi i sensei sono più forti qui si arriva ci abbiamo un'abilità a riuscire sempre ah ecco sta all'altra parte sta abbastanza lontano uh arrivano ragazzi arrivati arrivati vedi che sta lì che mi ammazzo tutti ok qui ce ne sta un altro eh vedete eh fate anche in fretta perché stanno anche arrivando eh bravo ok partiamo cerchiamo di mirare al punto giusto vai 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 ok perfetto e stiamo a due ma chi è che arriva così in questo modo allora chi è che ci sta colpendo ci sta qualcuno che ci sta colpendo ragazzi eh che fate fate la guardia non fate la guardia cioè che che vabbè avanziamo da quest'altra parte che qua sembra tutto blocchiato eh non riesco a passare nemmeno allora la non li becco vabbè allora devo fare tutto il giro wow aspetta da qua riusciamo a passare aspetta che riusciamo a passare da qua ma anche no ok fantastico quindi facciamo tutto il giro dall'altra parte ok giustamente forse per renderci la vita un po' più difficile se no sarebbe stato troppo ragazzi è da qua eh arrivo con voi eh non vi preoccupate state tanto vado io avanti vado io avanti che sono più forte ok anche perché voi state lanciando una sorta di non so che cosa ma non serve a niente ok là ce ne sta uno che sta là so aspetta che là ci sta un forziere aspetta aspetta vai ce la fai ce la fai allora ci becchiamo un fantastico forziere anche se praticamente ormai abbiamo potenziato tutto ragazzi però non mi dovete bloccare la strada aspetta un po' ok avanziamo da quest'altra parte ci carichiamo un po' di energia oh ce l'ho alle spalle ce l'ho alle spalle ok ragazzi caricatevi anche voi eh sono quasi vicino ci siamo ecco qua venite forza forza venite vai 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 hai visto questo come corre è il più veloce a lui siete pronti vai partenza ok non ho capito dove devo mirare ah ok vai di qua aspetta 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 ok becchiato per poco va becchiato vai le pareti sono saltate in aria ora ti resta solo da distruggere il loro malvagio creation troll scusa se non te l'ho detto prima ah eh vabbè non ti preoccupare guarda ci abbiamo il saggio il miraggio aspetta 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 ragazzi venite qua da queste parti un po' di allora vi lancio un po' di confetti aspetta un po' vai vai saggio vai le saggio ci stanno attacchiando disegno attenzione aspetta vai un po' di confetti vai da quest'altra parte con questo devo andare bene ragazzi ragazzi allora mi avete completamente rotto con questi attacchi lontani perché i miei amici non mi attaccano cioè non mi difendono allora facciamo così ecco miriamo subito da quella parte là perché secondo me ecco distruggiamo questo e facciamo prima vai carica 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 venite qua venite qua venite qua vada saggio il miraggio come ragazzi dovete mirare l'altra parte voi attenzione voi sono continuando a sparare vai ok l'ho distrutto ragazzi hai fatto saltare in aria tutto e viva ciao gugus e per questo atto di eroismo compiuto senza alcun aiuto da parte mia vorrei offrirti un segno della mia gratitudine grazie un bel forziere ok vediamo cosa ci troviamo all'interno e qua abbiamo dei set da completare nuova coda nuova coda ma che schifo la coda da spri vabbè lasciamo perdere ok ragazzi anche questo livello termina qui sapete benissimo che a breve arriverà il nuovo livello l'osservatore del parco del grifone che secondo me sarà uno spettacolo e ci sarà naturalmente anche una sorpresa naturalmente spero come sempre questo video vi sia uscito mi raccomando mettete sempre un bel un bel commento e un bel mi piace noi ci vediamo nel prossimo video e bye bye